Musica Formazione e lavoro, l'Europa che ci piace. La regione toscana ha fatto il punto sull'avanzamento del programma regionale finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Lo ha fatto all'Obiol di Firenze, dove sono state protagoniste indiscusse istruzione e formazione e alternanza scuola-lavoro, perché crescita, occupazione e futuro dei giovani sono le priorità della regione toscana, che ha deciso di destinare ai giovani il 35% dei 732 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020. Ed è cominciata con una riflessione sul mondo della scuola e del lavoro che cambia. La giornata tutta dedicata alle politiche giovanili della regione toscana, tra il programma finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo ed il modello tedesco della riforma Buona Scuola, che ha inserito obbligatoriamente all'interno del percorso scolastico superiore il sistema duale, apprendistato, alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata, un'alleanza tra scuola e lavoro. Sicuramente dei percorsi di alternanza, quindi quelli che sono previsti obbligatoriamente nel terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori, ma più in generale anche di apprendistato, quindi di tutte quelle situazioni in cui si crea un collegamento, un collegamento strutturale fra appunto percorsi formativi, percorsi scolastici e attività di apprendimento in situazione. Finora il mondo della formazione, della scuola e dell'università in genere e il mondo del lavoro sono andati in due binari paralleli senza incontrarsi e questo ha creato un alto tasso nella disoccupazione giovanile e dall'altra parte le imprese che non riescono a trovare circa 80.000 posizioni professionalizzate. È chiaro che ci si è resti conto che anche in Italia questi muri fra scuola e lavoro vanno assolutamente abbattuti, quindi interventi di carattere statale, quindi sia il Ministero dell'Istruzione con la legge sulla buona scuola, sia il Ministero del Lavoro con la semplificazione dell'apprendistato e con la sperimentazione sul duale hanno messo in campo delle leggi che facilitano appunto anche l'azione complementare delle regioni e noi ci stiamo davvero impegnando molto per creare delle filiere formative che siano appunto collegate anche ai nostri distretti economici e che davvero creino una sinergia virtuosa fra scuole, centri di formazione, università e imprese e mondo del lavoro. Esiste anche un altro canale professionalizzante, l'Istruzione Tecnica Superiore per la preparazione di tecnici specializzati, un mix di professionalità diverse, aziende, agenzie formative, imprese, scuole e università. Sono sette in Toscana i percorsi di istruzione tecnica superiore, la cui realizzazione è cofinanziata dalla Regione Toscana con i fondi del programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo. Gli istituti tecnici superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda di nuove competenze tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che riguarda il settore della moda, l'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, la meccanica, l'agroalimentare, il chimico farmaceutico e le belle arti. Un modo per rispondere alla domanda delle imprese di nuove e sempre più elevate competenze tecniche e tecnologiche. Le imprese hanno necessità di figure professionali qualificate, le scuole danno della preparazione a questi ragazzi, mettendo insieme queste due cose riusciamo a creare delle figure professionali che forse inseriamo nel mondo del lavoro, o meglio vorrei togliere il forse perché noi cosa facciamo come spunto all'interno della fondazione in qualità di imprese? Diamo gli indizi sulle figure professionali delle quali abbiamo bisogno. Quindi la formazione e la fondazione si specializza e crea delle figure altamente qualificate sul settore specifico in maniera tale che poi queste persone possono entrare nel mondo del lavoro in maniera più facilitata. E per 300 ragazzi che hanno già compiuto 16 anni e hanno abbandonato il proprio corso di studi e non lavorano, adesso potranno partecipare a 20 corsi finanziati dalla regione toscana con 2 milioni di euro. Parallelamente la regione ha finanziato con altri 8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo 70 corsi che serviranno per formare circa 1000 giovani toscani. L'obiettivo di questo modello di alternanza scuola-lavoro è portare i ragazzi a conseguire titoli di studio che consentano loro di trovare un'occupazione. Le strade sono più di una. Per una parte dei giovani studenti l'apprendimento in impresa avviene tramite un contratto di apprendistato. Grazie a questo virtuoso incrocio tra azienda e scuola è possibile per alcune aziende riuscire in qualche modo a costruire questo percorso di 1400 ore che consentono al ragazzo di essere retribuito. Rimangono le 600 ore di scuola che il ragazzo quindi riduce e riduce la parte scolastica da 1600 ore e non per questo con necessariamente delle difficoltà nel riuscire ad ottenere il risultato perché è fortemente motivato da un senso di responsabilità personale che in questo momento anche a un sedicenne serve tanto. Un nuovo curriculum vitae che parte quindi dalla scuola. Per altri studenti invece attraverso l'introduzione dell'alternanza di 400 ore annue a partire dal secondo anno si aggiunge anche la possibilità di fare un'esperienza di impresa formativa simulata come succede all'Istituto Agrario di Firenze. Un terzo livello importante è quello dell'impresa che costruiscono i ragazzi in modo quasi simulato perché hanno proprio dei percorsi, hanno dei pezzi di terreno, producono delle azioni e costruiscono delle simulazioni d'azienda ma anche vendono e hanno una loro gestione sia in termini di imprese simulate sia in termini di possibili cooperative che nascono nelle classi. molti esperti d'azienda vengono in classe e anche questo è alternanza, fanno studi di caso, fanno testimonianze tutto assieme viene ricostruito dal consiglio di classe attribuendo ai ragazzi il loro nuovo curriculum vitae che parte dalla scuola. Per i giovani della nostra regione sono stati stanziati solo per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo 255 milioni di euro, risorse con cui la giunta regionale ha sostenuto il progetto Giovani Sì con misure che spazzano dai tirocini al servizio civile, dagli incentivi per l'occupazione a corsi per chi ha assolto l'obbligo scolastico ma non studia né lavora dalla formazione all'alta formazione per agevolare l'autonomia giovanile interventi diversi ma un obiettivo comune cercare un lavoro stabile, qualificato e tutelato capace di rafforzare la coesione sociale partendo dalla conoscenza per connettere il mondo del lavoro alla scuola e cercare soluzioni per ridare valore allo studio e alle capacità la regione ha portato al palaffari di Firenze 400 tra studenti e insegnanti per l'evento Orienta il tuo futuro per mettere i giovani a contatto diretto con tutti i soggetti dall'impresa all'università che formano l'universo dell'offerta di lavoro la regione ha puntato sul costruire una filiera fra lo studio e il lavoro infatti questa giornata è stata organizzata da tre assessorati dall'assessorato all'istruzione, dall'assessorato all'università e dall'assessorato alle attività produttive quello che noi vogliamo fare è mettere in contatto la domanda da parte dei giovani che è una domanda di formazione e una domanda anche poi di un futuro lavoro con quella che è l'offerta sia da parte delle università per formare le loro professionalità sia da parte delle imprese sulle professionalità di cui hanno bisogno per questo la giornata organizzata dalla regione si è articolata in diversi momenti laboratori dei ragazzi delle scuole superiori dove sono entrati a diretto contatto con quelle che sono alcuni settori importanti in Toscana l'agro e il bio, le scienze della vita, il turismo e i beni culturali la meccanica, il design, l'ambiente, l'energia, il sociale e il terzo settore aziende, studenti di secondo grado e studenti che sono usciti da un percorso universitario abbiamo cercato di mettere insieme queste tre cose in maniera tale che chi entra in un percorso universitario possa anche vedere l'opportunità di chi è appena uscito da un percorso universitario che si appresta a fare e poi gli studenti universitari che hanno avuto la possibilità di presentarsi a dieci aziende toscane di punta nel panorama produttivo regionale attraverso colloqui di job replacement hanno la possibilità di incontrare una quindicina di aziende per circa un 60 opportunità di eventuale lavoro e poter svolgere dei colloqui che in questo momento penso che sia la porta di accesso al mercato del lavoro alta formazione e modo di lavoro insieme e allineati per far ripartire l'occupazione giovanile è questo l'obiettivo di quanto la regione sta facendo per potenziare le sue politiche giovanili e ridurre al massimo la distanza fra agenzie formative ed imprese per potenziare le sue politiche giovanile e ridurre al massimo la distanza fra agenzie formative ed imprese e ridurre al massimo la distanza fra agenzie formative ed imprese